presentata dall'aggiunta la manovra economica per il 2012 costerà 125 euro in più a famiglia ferma l'addizionale IRPEF aumenta l'aliquota base per l'IMU e la tassa sui rifiuti rimane in sospeso per ora la tassa di soggiorno. Slitta ancora la modifica dell'applicazione dei ticket sanitari in Emilia Romagna, la regione aveva promesso di rivedere i criteri in modo da non penalizzare le famiglie ma l'assessore Lusenti attende novità dal governo critiche dall'Udc. Molte in arrivo per le prostitute troppo succinte la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso ad una luccela montata a Bologna per atti contrari alla pubblica decenza dalla Suprema Corte un invito a vestire e atteggiarsi con più decoro. Mille dipendenti della Corte d'Appello da mesi non vengono pagati non per colpa della mancanza di fondi ma solo per carenza del personale che serve a smaltire le pratiche, problema presto risolto con un accordo tra ordine dei commercialisti e Corte d'Appello. Un ottimo Bologna costringe al pareggio il Napoli a San Paolo nel posticipo di ieri sera al gol di Acqua Fresca risponde un rigore molto dubbio fischiato dai padroni di casa per il rosso-blu comunque un punto importante. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli? Questo pomeriggio il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha presentato la manovra di bilancio. Al termine della riunione il primo cittadino ha spiegato che si tratta di una manovra da 50 milioni di euro. Gli introiti arriveranno soprattutto da Limu, la liquota sulla prima casa aumenterà fino al 5 per mille e la stangata in particolare sarà sulle case. L'IRPEF invece rimarrà invariata ed è congelata la tassa di soggiorno e questo in attesa degli incontri con le associazioni di categoria. Allora andiamo a sentire proprio il sindaco, Virginio Merola, al microfono di Giuseppe Pilloni. Sindaco Merola che cosa avete deciso? Aumenterete l'Imu sulla prima casa? Sì, l'aumenteremo, il grosso dell'aumento dell'Imu come è noto andrà allo Stato, noi dobbiamo fare fronte a un taglio di 70 milioni di euro, 20 milioni li copriremo con riduzioni delle spese ulteriori e quindi stiamo lavorando per una manovra di 49-50 milioni di euro che dobbiamo recuperare con aumenti dell'Imu. I nostri criteri sono questi, incrementare il meno possibile l'Imu prima casa che incide appunto sul grosso delle famiglie bolognesi, salvaguardare i canoni concordati in modo da sostenere i canoni concordati e l'affitto in una situazione di crisi come questa, le cooperative a proprietà indivisa, cercare di non applicare l'aliquota massima per le imprese produttive e penalizzare maggiormente i canoni libri o le case che vengono tenute sfitte. Un ulteriore aumento dell'IRPEF non è opportuno, dovete tenere presente che già pagano i soliti noti in questo Paese, dobbiamo lavorare per un maggiore recupero di equità fiscale a tutti i livelli, noi siamo uno dei comuni più avanti nel recupero dell'evasione fiscale, contiamo su questo, sul governo Monti per ulteriori misure di recupero dell'evasione fiscale, quindi nessun aumento dell'IRPEF per quanto ci riguarda. La tassa di soggiorno va concertata con le associazioni commercianti, economiche e degli albergatori, se noi la introduciamo, la introduciamo aggiuntiva, non la pagano i residenti ma aggiuntiva nel senso che deve servire alla promozione turistica, deve servire alla qualità urbana, all'arredo urbano che fa tanto alla cultura, che fa tanto per la promozione turistica, per attirare qui turismo. C'è una contrarietà delle associazioni, quindi prima di prendere la decisione se farlo o meno noi le vogliamo incontrare anche per ricepire eventualmente proposte alternative da parte loro per raggiungere gli stessi obiettivi di qualità urbana, di promozione turistica e promozione culturale della nostra città. Passiamo adesso alla sanità perché la Regione Emilia-Romagna prende tempo e rinvia, almeno per ora, la modifica del pagamento dei ticket sanitari. Intanto l'Udc contesta e addirittura minaccia di presentare un nuovo progetto di legge. Simona Iannessa. La Regione Emilia-Romagna non modificherà il criterio di pagamento dei ticket sanitari ma si limiterà semplicemente ad attendere le prossime mosse del Governo in materia. Lo ha ufficializzato l'assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti rispondendo ad un'interrogazione di Silvia Noè dell'Udc che sollecitava modifiche al sistema di applicazione dei ticket su farmaci e visite specialistiche introdotto dalla legge 111 del 2011. Secondo la Noè, come già sottolineato in altre occasioni, il metodo penalizzerebbe le coppie sposate. Carlo Lusenti ha riferito di orientamenti del nuovo Ministro della Salute in merito ad una revisione complessiva della normativa sulla compartecipazione alla spesa sanitaria ma per il momento tutto è fermo ed iniziative non se ne prendono. Dura la risposta della consigliera dell'Udc che ha bollato. La reazione dell'assessore come attendista è volta a rinviare ogni responsabilità al Governo in uno scenario dai contorni futuri molto incerti in cui nessuno dà rassicurazioni o fa promesse. Nonostante dunque la Regione da ben 4 mesi si sia detta consapevole dell'iniquità del sistema, continua a non muovere un dito, ribadisce la Noè, quando potrebbe almeno mettere in campo un provvedimento transitorio mirato a restituire l'equità di trattamento. Di qui l'intenzione della consigliera dell'Udc di presentare un progetto di legge per sostituire l'attuale calcolo con un metodo che preveda almeno le fasce di compartecipazione determinate dall'Isee. Scatta la multa nei confronti della prostituta troppo succinta. La Cassazione lancia un appello alle lucciole invitandole ad un maggiore decoro sia nel modo di vestire che di atteggiarsi e con una sentenza sottolinea che la troppa disinvoltura per strada come pure l'abbigliamento eccessivamente succinto urtano tuttora la collettività. In questo modo la Suprema Corte ha convalidato una multa di 800 euro per atti contrari alla pubblica decenza nei confronti di una prostituta trentenne che nell'estate del 2009 nelle prime ore del pomeriggio era stata sorpresa dalle forze dell'ordine lungo via Marco Emilio Lepido a Bologna indossando un abbigliamento molto succinto e assumendo posture tali da rendere visibili le parti intime del proprio corpo. Denunciata la prostituta era stata multata dal giudice di pace di Bologna il 14 ottobre 2010. Contro la multa la donna ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'atteggiamento e il modo di vestire disinvolto ormai non urtano la collettività. La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibile per l'appunto il ricorso della donna. Adesso parliamo con nostro ospite studio il presidente dell'ordine dei commercialisti di Bologna Gianfranco Tomassoli grazie per essere con noi e parliamo con lei di un problema che investe la Corte di Appello. In sostanza cosa sta succedendo? Succede che alla Corte di Appello sono più di mille i professionisti questo tra gli ausiliari del giudice, i periti, i consulenti e anche gli interpreti che da diversi mesi non vengono pagati e non vengono pagati non tanto per mancanza di risorse finanziarie ma proprio perché c'è carenza di personale presso la Corte d'Appello e l'unico incaricato che c'è chiaramente non basta per evadere tutte le pratiche. Quindi cosa si può fare? Dunque sì è una carenza di personale però naturalmente il personale costa fra l'altro ma a parte il personale noi abbiamo ritenuto parlando con il presidente della Corte d'Appello per risolvere questo problema e abbiamo quindi messo a disposizione delle risorse per poter coinvolgere una risorsa, una persona fisica per liquidare questi importi. Questi importi sono arretrati, lavori già fatti, svolti. Da quanta montano più o meno questi importi? Esattamente non lo so io però sono moltissimi perché ci sono delle lamentele. Quindi sono i periti dei giudici, i consulenti, i periti, i interpreti, c'è un pochettino di tutto. Sono questi che aiutano naturalmente la giustizia e la Corte d'Appello che non riesce a liquidare questi importi. Speriamo che con il nostro aiuto si riesca a cominciare a muovere questo tipo di problema. Allora, quando è diventata insostenibile la situazione? Beh, per quel che ne so io è già da qualche anno che è insostenibile questa situazione e quindi direi che comunque in generale sembra che tutte le situazioni siano insostenibili, però bisogna affrontarle. Quindi noi per quello che ci riguarda come attori commercialisti abbiamo ritenuto di cominciare sperando che il buon esempio sia seguita anche da altri in generale. Ecco, questo è forse un piccolo rimprovero. A nessuno. A nessuno, assolutamente a nessuno. Non sta di fatto che l'ordine dei commercialisti di Bologna proprio per cercare di risolvere questo problema oggettivo, pratico, ma insomma anche di compensi che non è poco, domani siglerà un accordo, un protocollo con la Corte d'Appello di Bologna. Sì, perché fra l'altro è importante far seguire le parole i fatti. Quindi noi firmeremo un protocollo e questo tutto sommato è una soddisfazione per un ordine professionale che si deve interessare. Ma perché? Anche perché l'ordine professionale, gli ordini professionali sono gli enti pubblici. E quindi come istituzioni si debbono, quando possono, aiutare. Quindi noi cominciamo a fare questo nel nostro piccolo, però diciamo che penso che sia una cosa molto, da un certo punto di vista, importante. Quindi formalizziamo le parole con i fatti. Ecco, diciamo in brevemente il contenuto di questo protocollo, i punti principali. Che cosa prevede in sostanza? Praticamente prevede che l'ordine professionale si impegna a, diciamo, seguire, pagare, poi in buona sostanza, una risorsa per liquidare tutte queste varie competenze di tutti questi professionisti che hanno lavorato. Cioè una borsa di studio di mille euro mensili? È una borsa di studio, chiamiamola una borsa di studio, comunque è un importo per una risorsa. Quindi la chiamiamo la borsa di studio, bene, chiamiamola la borsa di studio, però le borsi di studio di solito sono un attimino forse più sostanziose. Però comunque sia mille euro mensili e poi specifichiamo anche che avrà la durata di cinque mesi e chiaramente verrà assegnata tramite bando di assunzione. Ribadisco, non è molto, ma insomma l'esempio speriamo che conti. Grazie al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna, Gianfranco Tomassoli. Speriamo che questo problema si risolva presto. Continuiamo con il nostro telegiornale e cambiamo completamente argomento perché cresce la popolazione a San Lazzaro di Savana, il comune, come sapete, alle porte di Bologna, però aumentano anche le famiglie di singolo oppure di coppie senza figli. La solitudine però sta favorendo, per così dire, il fenomeno della solidarietà di vicinato. Sentiamo di che cosa si tratta con Simone Iannessa. La famiglia moderna si trasforma e sarà per la crisi o per scelte di vita differenti, i componenti calano e di singolo aumentano. Nasce però parallelamente un nuovo fenomeno, ovvero quello della solidarietà di vicinato. Cresce la popolazione di San Lazzaro, il comune alle porte di Bologna. Alla fine dello scorso dicembre gli abitanti erano 31.691, 15.122 uomini e 16.659 donne, 234 in più complessivamente rispetto al 2010. L'anagrafe di Piazza Bracci ha registrato un calo delle iscrizioni anagrafiche, sono stati 243 i nati e 338 i decessi, con un saldo naturale in negativo anche quest'anno di 95 unità. Il flusso migratorio complessivo ha interessato 2.793 persone. In totale San Lazzaro accoglie cittadini provenienti da 81 paesi del mondo. In aumento anche i minorenni, che da 410 nel 2010 sono passati a 464. Le famiglie di San Lazzaro sono invece più di 14.000, ma cala la loro dimensione media, come dicevamo, scende a circa due componenti per nucleo. In aumento invece i nuclei unipersonali e dunque la tipologia prevalente è quella del single, seguita dal nucleo di due persone e poi da quella con tre. La trasformazione sociale della famiglia oggi tendenzialmente comporta da un lato magari l'anziano che vive da solo o altri membri di una famiglia più allargata che vivono da soli, ma in una solidarietà di vicinato. Cioè sempre più spesso noi siamo in presenza di grappoli familiari in cui due o tre generazioni si radicano in un certo territorio a una distanza che ha molto a che fare con la possibilità di continuare a darsi una mano. e naturalmente noi dobbiamo impostare politiche abitative, politiche sociali, politiche anche di sostegno alla socialità verso le persone, parlavo prima dei nostri centri sociali, immaginando questa nuova solidarietà di vicinato che accompagna la trasformazione sociale della famiglia. Ora ci sono buone notizie, fortunatamente riguardano la regione Emilia-Romagna che nonostante il periodo di crisi riesce a salvare, ma anzi addirittura a incrementare i fondi destinati proprio alla cultura e allo spettacolo. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l'assessore Massimo Mezzetti. Sentiamo. Approvato in Assemblea Legislativa a maggioranza il programma triennale 2012-2014 per lo spettacolo, contrari Udc e 5 Stelle si sono astenuti PDL e Lega Nord. Pure in un periodo di grave crisi economica la regione riesce ad aumentare i finanziamenti disponibili sulla legge per lo spettacolo, anche se con molta fatica, sottolinea l'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti, ricordando la scure che si è abbattuta sul bilancio. È un errore considerare la cultura un bene voluttuario, dice ancora Mezzetti, è invece una grande risorsa che va valorizzata perché incide in termini economici. Il turismo culturale rappresenta sia in Emilia-Romagna che in Italia il 40% degli introiti del turismo. La cultura da sola è il 5% del PIL nazionale, con il turismo culturale arriva al 19%. In Emilia-Romagna le 213 sedi di spettacolo dal vivo, 185 coperte, occupano 10.000 addetti tra prosa, musica, danza e cinema per il 10% dei biglietti staccati in Italia. Ancora una volta ha tenuto banco in aula il forte finanziamento alla Fondazione Toscanini, definito un drenaggio di risorse da Silvia Noè dell'Udc e criticato pure dal PDL, ma il capogruppo grillino Andrea De Franceschi ha sostenuto che quando se n'è parlato in commissione era l'unico rappresentante dell'opposizione presente. In ogni modo l'assessore Mezzetti ha ribadito che la giunta regionale è più che disponibile a discutere una riorganizzazione complessiva. Non hanno senso due orchestre a Parma, contando anche quella del Teatro Regio, ma lì bisognerà aspettare le elezioni di primavera perché non è tema da trattare con l'amministrazione commissariale. In cantiere c'è sicuramente un maggiore sfruttamento dell'orchestra Toscanini, al centro del rinnovo dell'intesa regionale con i sei teatri di tradizione, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara e Ravenna, e con la Fondazione Lirica di Bologna. Due giovani romeni incinta sono state denunciate per furto aggravato dalla polizia ieri a Bologna. Poco dopo le 18, le 2 di 23 e 20 anni sono state bloccate da una addetta alla sicurezza del centro commerciale via larga nella periferia della città. La donna le aveva osservate attraverso le telecamere mentre nascondevano in borsa merce presa dagli scaffali e alla cassa hanno pagato solamente una bottiglia d'acqua. Avevano rubato 21 confezioni di carne in scatola e vestiti per 140 euro. Entrambe avevano precedenti. Ci fermiamo per la pubblicità. Un primo stacco pubblicitario poi di nuovo in studio. Di nuovo in studio con ETG. Prima di proseguire andiamo a rivedere i titoli principali di oggi. Presentata dall'Aggiunta, la manovra economica per il 2012 costerà 125 euro in più a famiglia. afferma l'addizionale IRPEF aumenta l'aliquota base per l'IMU e la tassa sui rifiuti rimane in sospeso per ora la tassa di soggiorno. Slitta ancora la modifica dell'applicazione dei ticket sanitari in Emilia-Romagna. La regione aveva promesso di rivedere i criteri in modo da non penalizzare le famiglie ma l'assessore Lusenti attende novità dal governo, critiche dall'Udc. Multa in arrivo per le prostitute troppo succinte. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una lucciola multata a Bologna per atti contrari alla pubblica decenza. Dalla Suprema Corte un invito a vestire e atteggiarsi con più decoro. Mille dipendenti della Corte d'Appello da mesi non vengono pagati non per colpa della mancanza di fondi ma solo per carenza del personale che serve a smaltire le pratiche. Problema presto risolto con un accordo tra ordine dei commercialisti e Corte d'Appello. Un ottimo Bologna costringe al pareggio il Napoli a San Paolo nel posticipo di ieri sera. La gola di acqua fresca risponde un rigore molto dubbio fischiato ai padroni di casa. Per il rosso-blu comunque un punto importante. E passiamo proprio al calcio proprio per quanto riguarda questa partita con una bella impresa del Bologna che per l'appunto pareggia con il Napoli. Un rigore come avete sentito molto contestato permette ai partenopei di limitare i danni. Vediamo il servizio. Un bel Bologna sfiera l'impresa al San Paolo conquistando un ottimo punto. Tutti avrebbero firmato l'1-1 a Napoli prima della gara. A posteriori invece il risultato sta anche un po' stretto ai rosso-blu. Il pareggio dei partenopei infatti arriva grazie a un rigore per fallo di mano di Perez in area. Il tocco c'è sicuramente quella che manca è la volontarietà ed è proprio questo che scatena le proteste dei rosso-blu. Il tocco di Perez era involontario e il regolamento parla chiaro per essere penalty. Ci deve essere l'intenzionalità ribadirà Pioli al termine della partita seguito dallo stesso centrocampista uruguaiano. Proteste un po' di rammarico che non devono però far passare in secondo piano i meriti della squadra e del tecnico, ormai bestia nera del Napoli. Nella formazione iniziale Pioli sorprende tutti con acqua fresca al posto di Ramirez ma soprattutto con Taider in campo dal primo minuto. Ottime scelte entrambe. Il primo ripaga il tecnico con il gol del vantaggio, il secondo autore di una prova di sostanza e qualità ma merita una menzione anche Gillet per la risposta a Danzig all'inizio della partita. In chiusura l'occasione decisiva sarebbe ancora per il Bologna con Ramirez che è in maniera splendida di Vaio, che manca però la conclusione. Neanche un giorno di riposo per la squadra, da oggi al lavoro già a Casteldebole per preparare l'anticipo di domenica a mezzogiorno con il Parma, con Pioli che da oggi ha un Sorensen in più. Adesso ci fermiamo ancora a un piccolo stacco pubblicitario. Di nuovo in studio con ETG c'è solamente il tempo per andare a rivedere i titoli principali di oggi. Andiamo in Comune, è stata presentata dalla Giunta la manovra economica per il 2012, costerà 125 euro in più a famiglia, ferma l'addizionale IRPEF, aumentano l'aliquota base per l'IMO e la tassa sui rifiuti. Rimane in sospeso per ora la tassa di soggiorno. Slitta ancora la modifica dell'applicazione dei ticket sanitari in Emilia-Romagna. La regione aveva promesso di rivedere i criteri in modo da non penalizzare le famiglie. Ma l'assessore Lusenti attende novità dal governo, critiche dall'Udc. Multe in arrivo per le prostitute troppo succinte, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una lucciola multata a Bologna per atti contrari alla pubblica decenza. Dalla Suprema Corte un invito a vestire e atteggiarsi con più decoro. Mille dipendenti della Corte d'Appello da mesi non vengono pagati, non per colpa della mancanza di fondi, ma solo per carenza del personale, che serve a smaltire le pratiche. Problema presto risolto con un accordo tra ordine dei commercialisti e Corte d'Appello. Un ottimo Bologna costringe al pareggio il Napoli a San Paolo nel posticipo di ieri sera. Al gol di Acqua Fresca risponde un rigore molto dubbio, fischiato ai padroni di casa. Per il rosso-blu comunque un punto importante. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Una buonissima serata dalla redazione di ETG. Arrivederci.